Danni ingenti. A poco più di 48 ore dal nubifragio che ha provocato l'alluvione a Trapani, i commercianti sono ancora alle prese con pulizie e conta dei danni. E questa è la nostra notizia del giorno. I più sfortunati hanno subito danni ingentissimi alle strutture, alla merce, negozi e magazzino. Attività letteralmente messe in ginocchio, come Tommy Elfiger, di cui abbiamo intervistato il responsabile. Come vedete voi, praticamente abbiamo dovuto smontare o stiamo continuando a smontare tutto il parquet, perché il parquet è andato distrutto, così come sono andati distrutti tutti quanti i mobili, perché qui molte strutture sono in legno e quindi praticamente è tutto da buttare. Purtroppo, come vedete, qui dentro c'è tutta merce che è andata persa, perché l'acqua è arrivata grossomodo a circa 30-40 centimetri e quindi molte cose sono andate distrutte. Niente. Voi siete già in contatto con le vostre organizzazioni di categoria per capire quali possono essere le procedure di risarcimento, se mai vi fossero? Sì, e questo sicuramente se ne starà occupando la mia azienda, però sappiamo già, perché ieri sono venuti qui alcuni, è venuto anche il sindaco, a comunicarci gli eventuali canali per cercare di definire quanto prima possibile il danno e quindi fare una richiesta di risarcimento. Stamani erano ancora a lavoro dipendenti, parenti e amici del titolare di Marino Corredi. Noi stessi abbiamo visto il titolare aprire una scatola dalla quale sono messi i capi intrisi di acqua. Il signor Marino ci ha però tenuto a raccontare la solidarietà ricevuta dai commercianti vicini, che dopo aver messo in sesto le loro attività si sono spostati nel suo negozio per aiutare. Il signor Marino ha ringraziato in particolare il bar Milo, che per due giorni li ha sostenuti rifocillandoli con caffè, cibo e bevande. Danni anche nei negozi del signor Parisi. Io ho altri tre negozi oltre questo, sulla Gbfadetta, tutte e quattro allagate in modo peggio forse di qua. Con quei danni avete capito che sono ingenti? Ma io penso che saranno 40-50 mila euro sicuramente di calzature, non della struttura. Se parlo di pavimentazioni saltate, che ora ho il parquet saltato, quindi è da cambiare. Non so dire quanti, muti, che si sono tutti screpolati. Come si fa? È impossibile. Io posso dire che di merce abbiamo avuto 50 mila euro di danni. Lei si è rivolto già a Comune per notificare questi danni? L'ufficio nostro sta muovendo per fare, sulla pecca mi pare sì, sulla pecca e quantificare così, con un punto interrogativo grosso, di quanto possa essere il danno. Preoccupazione per l'immediato futuro da parte dei titolari del negozio di mobili D8 Interior. Siamo pian pianificando un po' i gravi danni che abbiamo ricevuto, poiché non riguardano soltanto a livello strutturale, come potete ben vedere, dalle pareti in cartongesso all'impianto elettrico, quindi la parte dello scheletro della nostra azienda, ma anche e soprattutto i danni relativamente ai mobili. Qui, essendo un negozio di mobili, abbiamo totalmente perso tutto, quindi gran parte se non tutto, la merce che abbiamo in esposizione, ma anche gran parte del deposito, quindi dei nostri magazzini, dove avevamo in consegna a breve anche i mobili per i clienti. Quindi stiamo verificando e i danni non sono pochi. Davvero un bilancio da brividi. Ci fermiamo qui con la nostra notizia del giorno. Torniamo tra pochissimo. Vi aspetto. Un tavolo di crisi si insedia domani a Trapani il coordinamento per gestire al comune di Trapani la fase post-alluvione, già avanzata la richiesta di riconoscimento di calamità naturale. A disposizione di chi ha subito danni, l'Associazione Codici, la Confesercenti e la CNA aprono i loro uffici per sostenere cittadini, artigiani e commercianti nel presentare le richieste di risarcimento. Chi rimane fuori dall'ARS? Analizziamo oggi i candidati della provincia di Trapani che sono rimasti fuori dal Parlamento regionale. Dati non ancora definitivi di Inticilia sono 54 i seggi che non hanno completato in maniera regolare le operazioni di scrutinio, tra questi un seggio nel comune di Misiliscemi. Si gioca al Palauriga, saldato il sodalizio tra Pallacanestro Trapani e Lanino Castiglione, società titolare del rinomato marchio da sempre vicino al basket trapanese. E poi l'approfondimento, manca solo la firma, insomma ci occupiamo della preoccupazione degli operatori del comparto dell'agricoltura biologica che per la mancata attivazione dei decreti attuativi relativi alla recente legge approvata dall'ARS per sostenere l'agroecologia. Eccoci qui, siamo tornati ancora insieme ma ovviamente torniamo a parlare dell'alluvione a Trapani. Domani il tavolo di crisi a Palazzo Dalì, il Sias, il Sistema Informativo Agrometeorologico Siciliano, ha certificato l'evento come straordinario, evento simile a quello del 1976. Sta arrivando. Il Sistema Informativo Agrometeorologico Siciliano ha certificato i dati del nubifraggio abbattute sui trapani e sulle zone limitrofe che risultano i più alti di sempre dall'installazione delle stazioni fino ad oggi. Il consulente del Comune in materia di protezione civile, l'ingegner Loria, già dirigente della protezione civile regionale, ha scritto nella sua relazione che i quantitativi di pioggia sono eguagliabili, purtroppo alla disastrosa alluvione nel 1976 quando morirono anche molte persone. La città di Trapani ha già chiesto alla regione siciliana di dichiarare lo stato di emergenza per calamità naturale. Il Sindaco Tranchide intanto ha reso noto di aver illustrato quanto accaduto nel capoluogo ai neodeputati regionali Safine e Turano e al senatore russo e li ha invitati al tavolo di crisi conseguente alla grave alluvione convocato per domani alle 11.30 a Palazzo Dalì. Il Sindaco ha inoltre sollecitato il Capo della protezione civile regionale perché sulla base della certificazione di evento eccezionale con una quantità d'acqua che non era mai stata rilevata prima d'ora, si è immediatamente riconosciuta la condizione di criticità e di calamità naturale che è l'unico modo per giungere al risarcimento dei danni sia per i cittadini che per i commercianti e le imprese, nonché per gli enti, compreso il Comune, che hanno avuto impianti distrutti da quello che è accaduto. Gli sportelli dell'Associazione di Consumatori, Utenti Codici e Confesercenti seguiranno i loro associati e tutti i cittadini che hanno subito danni negli allagamenti di lunedì scorso per avviare le pratiche di ristoro. Vediamo. L'Associazione Codici e la Confesercenti mettono a disposizione i loro uffici per interagire con l'Ufficio di Protezione Civile Comunale di Trapani al quale inviare richieste di risarcimento con la documentazione utile da allegare. Codici chiede che anche i comuni di Erice e Paceco si attivino in tal senso, considerato che in quei territori ci sono state diverse auto danneggiate dal fango, oltre che dall'acqua, che è entrata nei motori in alcuni casi rendendole inservibili. I cittadini ericini e pacecoti non possono essere considerati figli di un dio minore, dice l'Avvocato Vincenzo Maltese, dirigente regionale dell'Associazione Codici. Afferma Codici che ci sono state diverse strade allagate e ricadenti a Erice e Casasanta e nelle frazioni, pertanto non si possono avere due pesi e due misure. Per i commercianti si tratta in molti casi di danni ancora in via di quantificazione. Maltese comunque non esclude l'accertamento di eventuali responsabilità per l'omessa o carente manutenzione ordinaria delle condotte fognarie, tombini e caditoie. Anche la CNA di Trapani è già al lavoro per supportare imprese e cittadini che hanno subito dei danni. I dipendenti e i vertici di CNA Trapani si sono attivati per supportare imprese e cittadini che abbiano subito danni conseguentemente all'alluvione. Stiamo vivendo questa situazione di emergenza in prima persona, dicono i vertici di CNA Trapani, Francesco Cicale e Giuseppe Orlando. E siamo solidali a tutti i cittadini che in queste ore non solo hanno avuto paura, ma che stanno contando danni ad abitazioni, negozi, sedi commerciali e aziendali. In completa sinergia e collaborazione con la CNA nazionale e con il CNA Sicilia, siamo già pronti ad attivare tutte le procedure utili affinché ciascuno possa chiedere ed ottenere il giusto risarcimento danni. Abbiamo già individuato, dicono ancora Cicale e Orlando, utilizzando la normativa di riferimento e gli strumenti per affiancare al meglio le imprese che si trovano a dover far fronte a nuove difficoltà, nonché l'iter procedurale per avviare le pratiche. CNA Trapani, supportata dai vertici nazionali e regionali della stessa organizzazione, si dice inoltre pronta a farsi portavoce delle istanze di cittadini, pensionati e imprese con le istituzioni locali e non. Contiamo di partecipare attivamente, concludono Cicale e Orlando, a un tavolo tecnico di emergenza per far fronte a questa situazione in qualità di organo di rappresentanza di artigiani e piccole e medie imprese ed è importante intermediario con le istituzioni. Intanto proprio questa mattina sia il presidente di CNA nazionale Dario Costantini che il presidente e il segretario di CNA Sicilia Nello Battiato e Piero Giglione hanno mostrato solidarietà in vicinanza alla CNA locale e al territorio tutto mettendosi a disposizione per dare ancora più forza se necessario facendo da intermediari con istituzioni regionali e nazionali alle istanze di cittadini, pensionati e imprese di Trapani. I carabinieri di Trapani hanno soccorso e salvato un uomo di 41 anni che aveva manifestato l'intenzione di togliersi la vita lanciandosi dal balcone al secondo piano della palazzina in cui abita. Sul posto sono intervenuti insieme ai militari anche i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Un carabiniere specializzato nelle negoziazioni ha stabilito un dialogo con l'uomo che inveiva contro tutti lanciando oggetti dal balcone. Il negoziatore è riuscito a cattirare l'attenzione del potenziale suicida fino a quando questi non è stato bloccato e reso inoffensivo per sé e per gli altri. Messo in sicurezza l'uomo è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso. E adesso ci fermiamo un secondo ma poi torniamo e continuiamo con l'analisi delle elezioni politiche. Chi rimane fuori dall'Ars? Analizziamo oggi i candidati della provincia di Trapani che sono rimasti fuori dal Parlamento regionale. Dati non ancora definitivi, in Sicilia sono 54 i seggi che non hanno completato in maniera regolare le operazioni di scrutinio. Tra questi un seggio nel comune di Misiliscemi. E poi lo sport si gioca al pala Uriga. Saldato il sodalizio tra Pallacanestro Trapani e Ranino Castiglione, società titolare del rinomato marchio da sempre vicino al basket trapanese. E torniamo ad occuparci ovviamente delle elezioni. Analizziamo oggi i candidati che sono rimasti fuori dal Parlamento regionale. Vediamo. Degli eletti abbiamo parlato ieri, analizzando anche le sfide dirette all'interno di Fratelli d'Italia, PD, 5 Stelle e Forzisti. Oggi vediamo chi non ce l'ha fatta staccare un biglietto per Sala d'Ercole. Erano alla prima candidatura per l'Assemblea regionale siciliana i tre presidenti del Consiglio Comunale di Marsala, Trapani e Mazzara del Vallo. Questi ultimi due entrambi in corsa nella nuova DC dell'ex governatore Toto Cuffaro. Buono il loro risultato, ma non abbastanza da poter fare scattare il seggio alla lista. A prevalere è stato Peppe Guaiana, con oltre 4.000 preferenze, mentre Vito Gangetano si è fermato a 3.600, superato di appena 30 voti dall'ex sindaco di Alcamo, Giacomo Scala. Enzo Studiano, invece, è arrivato secondo nella corsa dei popolari e autonomisti. Quasi 3.300 preferenze, 75 sotto l'alcamese Angelo Rocca, coordinatore provinciale di Via, il movimento che fa riferimento all'ex senatore Nino Papania. Tutto sommato modesto il suo risultato, nonostante il prevedibile successo a Marsala con quasi 2.500 voti. Secondo, dietro a Stefano Pellegrino, crollato di oltre 2.000 preferenze rispetto alla scorsa tornata, ma surclassando l'uscente Eleonora Locurto di oltre 1.000 preferenze, superata anche dalla democratica Linda Licari. Di 100 voti, senza parate alle spalle, assessore di riferimento in giunta, come ha voluto sottolineare l'ex consigliera comunale Dem, una volta saputo l'ottimo risultato in città. L'ormai ex deputata Marsalese è comunque andata assai meglio del 2017, passando da poco più di 2.000 a 5.000 voti. L'ennesima capriò la politica alla ricerca della lista su misura, che questa volta l'ha portata alla Lega, dopo autonomisti vari, Udc ed area forzista. Una scelta surreale, visto come a posto fuori il proprio leader pro tempore Salvini, allora ministro dell'interno, appena tre anni fa in occasione degli ennesimi sbarchi sull'isola. Ma, si sa, il miraggio di una poltrona supera ogni resistenza ideologica, già di per sé assai fluida per lei. Questa volta, però, la dea bendata non è stata dalla sua parte. Seguire Turano nella speranza dell'opzione romana del politico alcamese non ha funzionato. Ritenterà al prossimo giro, dove è tutto da vedere, ma, come si è visto, questo è l'ultimo dei problemi per Eleonoralo Curto. Altro risultato deludente è stato quello della mazzarese Mariko Hopps. Trasferitasi armi e bagagli con gli autonomisti poco prima del voto, dopo l'arrattura con i leghisti, non digerendo, evidentemente, l'operazione Turano. Alla luce del modestissimo risultato elettorale, appena 900 preferenze, sinceramente non si capisce perché. Gettonatissima in passato per ruoli e candidature varie, finalmente si è confrontata con le urne. Gli esiti sono sotto gli occhi di tutti. Con Cateno De Luca ci si aspettava di più da Daniele Mangiaracina. Nonostante lo tsunami populista del Masaniello messinese, l'ex primo cittadino di Campobello di Mazzara, si è fermato a modestissime 1500 preferenze. Ma per quanto riguarda le elezioni regionali, mancano ancora i dati definitivi. Anche un seggio di misiliscemi tra i 54 in tutta la Sicilia ancora alle prese con la congruità dei numeri. A quasi 24 ore dalle operazioni di scrutinio per le elezioni regionali, i dati elettorali non sono né completi né definitivi. Ieri pomeriggio, subito dopo le 18, l'ufficio stampa della regione ha diffuso il seguente comunicato. Sono scese a 54 sulle 5.298 complessive le sessioni elettorali che mancano ancora all'appello affinché il Dipartimento regionale delle autonomie locali possa procedere alla comunicazione definitiva della ripartizione dei seggi in tutta la Sicilia. A causa dei dati incompleti o errati trasmessi da alcuni comuni alle prefetture, l'ufficio elettorale della regione non ha potuto aggiornare il portale web e non potrà farlo fino a quando i dati non verranno validati. In particolare mancano le sezioni nelle seguenti province Agrigento, Cattanissetta, Palermo, Siracusa, Trapani. Al momento in cui andiamo in onda la situazione è ancora la stessa. Così ci siamo presi la briga di capire cosa sta succedendo proprio a partire da Mesiriscemi dove pare che nel verbale di una delle 8-9 sessioni elettorali appena costituite, la numero 7 di Marausa, risulterebbero dati incoerenti tra il numero dei votanti e i voti assegnati alle liste. L'ufficio elettorale di Mesiriscemi avrebbe dunque segnalato l'incongruenza alla prefettura che ora dovrà sentire il presidente del seggio elettorale in questione per dirimere la matassa. Da qui il mancato invio dei dati alla regione e i ritardi nella definizione dei risultati definitivi. In ogni caso comunque i dati non congrui non dovrebbero incidere sugli esiti complessivi delle elezioni. Intanto fanno sapere dagli uffici elettorali della regione siciliana che verbali dei comuni relative alle sezioni mancanti sono stati trasmessi alle prefetture e ai tribunali competenti che effettueranno un nuovo scrutinio il cui verbale di esito verrà inviato direttamente all'ufficio centrale regionale presso le corti d'appello. Una volta che il conteggio dei voti sarà completo l'ufficio centrale regionale proclamerà il presidente della regione e il primo dei candidati alla presidenza non eletti e stabilirà la soia del 5% valida per l'attribuzione dei seggi all'Assemblea regionale siciliana. Analisi post-elettorale dell'Istituto Demopolis e flussi del voto alle regionali. Vediamo nel servizio il commento del direttore dell'Istituto Pietro Vento. L'astenzione è stata anche in questa occasione il dato più caratterizzante nel voto per le regionali in Sicilia. Nonostante l'election day, la coincidenza di elezioni politiche regionali, domenica scorsa ha votato nell'isola meno di un elettore su due. Appena il 49%, oltre 2 milioni di siciliani, non si sono recati alle urne. L'Istituto Demopolis ha indagato sulle ragioni dell'astenzione. Emerge, ha spiegato il direttore di Demopolis Pietro Vento, una chiara compromissione della fiducia dei cittadini. Una larga maggioranza dei siciliani, il 52%, appare convinta che la politica regionale non sia in grado da molto tempo di incidere sulla vita reale delle famiglie nell'isola. Tra quanti si sono recati alle urne, si conferma una tendenza sempre più netta in Sicilia. Soltanto una minoranza, poco meno di un terzo, dichiara di aver votato in base alla propria appartenenza di partito. Ad influire, ha aggiunto Pietro Vento, è stata soprattutto la scelta del candidato alla presidenza, dirimente per il 40% di chi si è recato alle urne. Ha pesato anche per il 38% degli elettori il candidato in lista per l'Arsa a livello provinciale. E' un dato quest'ultimo, rivelato se importante per il centrodestra e che ha contribuito a favorire nell'ultima settimana un'ulteriore crescita del consenso al nuovo presidente della regione, Renato Schifani. L'analisi dei flussi elettorali conferma gli spostamenti del voto rispetto al 2017. L'Istituto Demopolis ha analizzato la composizione del consenso al nuovo presidente della regione. Su 100 elettori che hanno scelto oggi Renato Schifani, quasi 900.082 avevano votato musumeci alle regionali del 2017. 4 elettori odierni su 100 di Schifani avevano votato nel 2017 per Giancarlo Cancelleri, 3 per il candidato di centrosinistra Micari. Un segmento di 10 su 100 proviene infine da quanti 5 anni fa non avevano votato. Significative le variazioni del consenso a Renato Schifani nelle tre aree metropolitane, 40% a Palermo, 47% a Catania, 29% a Messina, dove ha pesato la presenza del suo principale competitor, Cateno De Luca. Tra le nuove province, a premiare maggiormente Schifani, è stata con il 51% delle preferenze la provincia di Agrigento. Tra le qualità maggiormente riconosciute dai siciliani al neopresidente della regione, emergono la competenza e la capacità di governare legate alla sua lunga esperienza politica. Nella percezione dell'opinione pubblica, Schifani è anche concreto, mentre appena il 16% lo ritiene innovativo. Demopolis ha analizzato infine le preoccupazioni economiche delle famiglie e l'agenda dei siciliani per il nuovo presidente della regione. A preoccupare, in vista dell'inverno, ha concluso il direttore dell'Istituto Demopolis, Vento, e soprattutto l'aumento del costo della vita, dell'inflazione. 8 su 10 evidenziano l'incremento non sostenibile per la gran parte delle famiglie e delle imprese delle bollette di gas ed energia. L'esigenza di un sostegno al potere d'acquisto delle famiglie supera, per la prima volta nell'isola, la priorità storica dell'occupazione del lavoro. Cambiamo argomento. Al Via, venerdì 30 settembre, anche a Trapani, la settimana europea dello sport, promossa dalla comunità europea per stimolare i giovani ad una vita attiva e praticare una sana attività sportiva. Noi abbiamo parlato in studio con Roald Lilli Vento, presidente del Panathlon di Trapani, organizzatore dell'evento, tra i più importanti tra l'altro organizzati in Italia, ed il segretario Giovanni Guitta. Ascoltiamoli. In programma abbiamo tante iniziative. Si inizierà la mattina di venerdì con un corteo a cui parteciperanno circa 4.000 studenti, oltre alle autorità e personalità del territorio, e chiunque volesse partecipare. Si partirà da Piazza Municipio per poi raggiungere la farmacia Garraffa a piedi. Il corteo sarà aperto dalla fanfara dei bersaglieri. La farmacia Garraffa si ritornerà indietro e si entrerà dentro la villa comunale Margherita dove le istituzioni porgeranno il saluto ai giovani. L'iniziativa prevede che sia dentro la villa Margherita che a Piazza Vittorio e sul lungomare Dante Alighieri, lato Lideo, area Lidi, siamo in zona del comune di Erice con cui stiamo collaborando, ci saranno delle iniziative culturali e sportive, culturali particolarmente dal parco della villa con tante simpatiche presenze. A Piazza Vittorio ci saranno anche delle dimostrazioni da parte della Polizia di Stato, che farà delle iniziative con l'etilometro ed altro, i vigili del fuoco faranno anche delle altre iniziative con i cinofoli e così via. Mentre sul lato lungomare Dante Alighieri ci saranno prettamente delle attività sportive, delle gare non agonistiche, ma sarà una bella giornata intensa. Voglio ringraziare tutte le istituzioni che ci stanno collaborando, anche in un momento difficile come questo di Trapani che sta soffrendo maledettamente per ciò che è successo, ma speriamo che tutto vada bene, che il territorio sia pronto ad accogliere questi giovani. La risposta di chi ha preso parte a questa manifestazione si è fatta attendere oppure c'è entusiasmo anche da quella parte? Specialmente dalla parte dei ragazzi delle scuole. Hanno partecipato allora, due anni fa, con grande entusiasmo, e siamo sicuri che anche questa volta parteciperanno, perché ci sono delle manifestazioni sportive, tre contro tre, la salita con i vigili del fuoco, insomma, poi lo stesso momento è un baracchiangere, se ricetta. Questo si terrà venerdì invece questa sera per quanto riguarda gli appuntamenti sulla nostra emittente alle 20.30 e alle 23, trasmetteremo l'incontro di palla a mano femminile tra Ioma, Salerno ed Edbo Lerice. Adesso una breve pausa e poi torniamo a parlare di sport. Eccoci con lo sport per quanto riguarda il calcio, per quanto riguarda il Trapani, ancora situazione un po' in bilico per quanto riguarda le condizioni dello stadio. Come sapete, insomma, dopo l'alluvione di lunedì, sia lo stadio provinciale che la sede e gli spogliatoi hanno subito dei danni. Ebbene, a quanto pare, le condizioni del manto erboso, sintetico, non sono assolutamente ottimali, per cui è a rischio anche la partita di domenica. Ci saranno chiaramente delle informazioni, delle comunicazioni in merito, quindi siamo qui ad attendere. Nel frattempo la prima squadra si sta allenando a Valderice. Cambiamo sport, parliamo di basket. Si è tenuta ieri nella sede dell'Anino Castiglione la conferenza stampa di presentazione del Sudinizio tra la Castiglione appunto con Tonna Auriga e la Palacanestro Trapani. Abbiamo ascoltato l'amministratore delegato della Palacanestro Trapani, Nicolo Basciano, e quello di Castiglione, Filippo Modeo. Con Castiglione, da sempre vicino alla Palacanestro Trapani, si è continuato negli anni a crescere appunto questo appartenereato. Adesso Castiglione ha preso fondamentalmente il nome della struttura del Palailio, diventerà Palauriga, quindi è ancora più presente nel territorio, come sempre sponsorizza tutte le attività, le iniziative del nostro territorio. Ci sono tante le iniziative che andremo a mettere in atto sicuramente insieme all'azienda, perché entrambi crediamo nei valori di questo territorio, crediamo nella crescita collettiva e tutto quello che lo sport può dare di buono a questo territorio sicuramente sarà fatto insieme. Il perché di questa scelta risale a motivi storici, da sempre la Tonna Auriga è stata vicina al basket Trapani, quest'anno ancora di più, in un momento in cui c'è bisogno di rimanere uniti e di dimostrare anche che questo territorio, oltre al turismo, sa anche vendere percorsi sportivi che da sempre hanno avuto ricadute positive sul nostro territorio ed è un motivo in più per crederci. Da sempre la Castiglione è stata vicina a molte attività sportive, è stata vicina alle scuole, è stata vicina a chi sicuramente ha riconosciuto che questo territorio tutto messo assieme funziona, sia dal punto di vista produttivo, dal punto di vista sportivo, dal punto di vista turistico, e che ha saputo dimostrare appunto che vale qualcosa. Manca solo la firma dell'assessore regionale Tony Scilla sui decreti attuativi della legge sull'agroecologia. I proponenti si chiedono perché di questo ritardo. Vediamo il servizio del nostro approfondimento di oggi. L'Arsa ha approvato all'unanimità il 29 luglio scorso una legge in materia di agroecologia per venire in conto alle questioni relative ai cambiamenti climatici, al miglioramento della qualità degli alimenti e tecniche di produzione che salvaguardino il territorio e l'ambiente. Ma perché la normativa prenda corpo nelle aziende agricole è necessaria la firma del decreto attuativo da parte dell'assessore Tony Scilla. Una legge che è stata approvata più di un anno fa, abbiamo già anche i decreti pronti, manca soltanto la firma. Centinaia di agricoltori ci stanno chiedendo come mai non possono soffrire di questa opportunità. La legge è vigente, ma anche il decreto attuativo. Come purtroppo è un costume italiano e siciliano che gran parte dei decreti attuativi non si fanno, qui rischiamo però, essendo un ambito di natura agricola, di far saltare intanto un'annualità, perché le aziende agricole senza decreto non possono fare la transizione agroecologica. Ma anche il danno economico notevole, perché il decreto che già è depositato, validato dal tavolo competente del Dipartimento Agricoltura, quindi visionato, mancava solo della firma dell'assessore. La mancanza dell'emanazione del decreto sta mettendo in sede difficoltà tutte quelle aziende che, volendo effettuare il passaggio al sistema agroecologico, si trovano nell'incertezza più assoluta, non potendo predisporre gli interventi culturali per tempo, rischiando perfino di perdere l'annata agraria 2022-2023. In un momento di grave crisi ambientale e crisi energetica, questa legge dava l'opportunità, in linea con le direttive europee, come Farm to Fork e il New Green Deal, di contemperare le esigenze agricole con una serie di sfide ambientali e energetiche che oggi esistono. Quindi sappiamo che l'agricoltura biologica, così come in particolare l'agroecologia, darebbe la possibilità di risparmiare più del 30% dei costi energetici. Questo decreto, fratto, darà una serie di opportunità che, in un momento di crisi, costo del gasolio, costo delle materie prime, significava far, diciamo, sollevare le aziende agricole economicamente, ma costi minore. I diretti interessati sono inoltre preoccupati che i ritardi possano incidere negativamente anche sul prossimo programma di sviluppo rurale 2023-2027, a cui la legge del 29 luglio rimanda. Ci sono tutta una serie di finanziamenti attraverso il PSR nella nuova programmazione che aspettano di essere utilizzati dai cittadini, dai siciliani. E quindi questa legge dà questa opportunità. Ma è chiaro che se manca la firma al decreto, tutto questo non si può concretizzare. E ogni giorno che si perde, ogni giorno di ritardo, oltre a dare tutta una serie di costi, anche burocratici, è praticamente un mese in più che si crea e che si perde nel raggiungimento di questi obiettivi, che sono anche obiettivi oggi europei. Oltretutto questa legge è agganciata al prossimo piano programma di sviluppo rurale. Mancanto il decreto, rischiamo che il programma 2023-2027 del prossimo PSR non potrà espletarsi nella maniera migliore. E quindi rischiamo non solo di slittare questa annualità, ma di far slittare un programma che l'Europa ci costringe ad attuare entro il 2030. Quindi siamo partiti in anticipo con una legge che è stata, a livello europeo, la prima. Rischiamo di arrivare a ritardo per una mancata firma. Questo non lo comprendiamo.